Musica Impennata di nuovi contagi in Italia, ben ritrovati gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva 4458, i nuovi casi registrati in Italia, 22 le vittime, impennata anche in Friuli, Venezia e Giulia e in Veneto, situazione che pare essere davvero sfuggita di mano. Ovviamente ne parleremo nel corso del telegiornale con i collegamenti nelle varie redazioni, con l'attualità in primo piano e anche a prensione a San Donà per una donna scomparse ancora, una donna anziana che è stata ritrovata mentre era uscita ed è stata trovata incastrata tra i rovi, continuano senza sosta le ricerche di un medico scomparso, un incidente stradale che ha visto coinvolto un bimbo di due anni e mezzo, quest'oggi a San Vito al tagliamento, un operario di 25 anni che è caduto e si è infortunato lavorando, poi parleremo anche ovviamente di situazioni che arrivano da vicino i migranti con un caso particolare che è successo quest'oggi a Pordenone con l'arresto di due dei tre indiani che sono stati protagonisti l'altra sera dell'accoltellamento ai danni di un loro connazionale a Prata di Pordenone. Ovviamente vi daremo tutte le notizie nel corso del telegiornale, prima però di proseguire i saluti, le prime notizie che arrivano dai colleghi della redazione di Udine e di quella del Veneto, ma cominciamo soprattutto dal Veneto. Grazie, un saluto anche dalla nostra redazione, contagi da Covid-19 in salita, un po' come avviene in tutta Italia, anche in Veneto si fanno i conti con le nuove positività, oltre 350 solo nella notte con quattro vittime, analizzeremo l'andamento e poi le ricerche di una 55enne a San Donà che ha fatto perdere le proprie tracce. Da martedì mattina il piano di ricerca di persone scomparse adottato dalla Prefettura di Venezia è messo in atto da questa mattina dai vigili del fuoco, assieme ai carabinieri che coordinano le indagini, ricerche ancora nel bellunese a Cortina d'Ampezzo per il cardiologo di 72 anni che non si trova da domenica mattina. E poi lo spaccio di droga tra Concordia e Portogluaro con un 23enne arrestato e condotto in carcere a Udine. Queste e molte altre notizie vi aspettiamo anche con ospiti in studio a tra pochissimo Linea a Pordenone. La domanda allora è sempre la stessa, quella che vi avevo posto nell'edizione precedente perché siete ancora tanti che ci state scrivendo riguardo proprio il nuovo decreto entrato in vigore nella giornata di oggi, mascherine obbligatorie all'aperto. Ieri era da ieri, ovviamente da oggi è un altro giorno, ma io girando per la città ho visto ancora tanta gente che non rispetta le prescrizioni. Attenzione perché dopo magari le prime ore in cui polizia, carabinieri e guardie di finanza sono un po' più larghi di manica, le multe vanno dai 400 ai 1000 euro. Quindi insomma vedete un po' voi. Ma ovviamente al di là del fatto poi della multa, siete d'accordo? Nuovo decreto mascherine obbligatorie all'aperto. Conte è stato molto chiaro, dice vogliamo scongiurare un nuovo lockdown, come tra altre cose sta avvenendo in Germania, come sta avvenendo in Francia, come sta avvenendo anche in Belgio. Anche perché come vi dicevo in apertura di telegiornale, quest'oggi l'impennata di contagi non si vedevano, numeri così alti d'aprile, 4458 nuovi casi. Siete d'accordo? Ciò fate sapere se ritenete opportuno? I metodi li vedete in sovraimpressione. Apriamo allora il telegiornale a prensione a San Dona di Piave per una donna scomparsa improvvisamente da casa, lavoro carabinieri e vigili del fuoco. Apriamo così il telegiornale. A San Dona di Piave una donna ha fatto perdere improvvisamente le proprie tracce. Si tratta di Elena Gulino, 55 anni, residente del posto, uscita di casa a martedì mattina alle 11. Avrebbe salutato la sorella, sembra, per andare a fare una passeggiata da sola, ma non è più tornata. La città è in apprensione da ieri sera, da quando un avviso è stato pubblicato sui social network, con tanto di foto, a postarlo il gruppo locale del controllo di vicinato. Da lì è partito il Tam Tam, con numerose condivisioni da tutte le zone della Venezia orientale, ma non solo. Oggi le ricerche erano concentrate a San Dona, dove i vigili del fuoco hanno messo in atto il consueto piano operativo per ricerca di persona scomparsa, disposto dalla prefettura. La zona è stata abbattuta dall'elicottero del comando provinciale dei pompieri, i quali sono stati impegnati anche con i sommozzatori nel Piave. A lavoro i carabinieri che stanno coordinando le indagini. Elena indossava maglia e fusoneri e un marsupio rosso. Chiunque l'avesse notata è pregato di allertare i carabinieri telefonando al 112. Una donna di 86 anni era andata a Castagna le 15 di ieri nella zona di Tarcento, inserata e non aveva fatto ritorno a casa. Era incastrata e rimasta impigliata tra i rovi a portarle in salvo il soccorso alpino di Udine. Una donna di 86 anni di San Mardenchia è stata tratta in salvo dal soccorso alpino ieri sera alle 21.30, dopo che si era persa andando a raccogliere le castagne. Tutto il paese, assieme ai parenti più stretti, si era messo sulle sue tracce, assieme ai soccorritori del soccorso alpino di Udine. Per battere i dintorni, la donna era uscita alle 15, non aveva fatto rientro. Intorno alle 18 i figli hanno iniziato a cercarla per poi chiamare all'imbrunire il 2.112. La donna è stata ritrovata in un punto di fitta vegetazione da cui non riusciva a muoversi, essendo sopraggiunto anche il buio, dopo aver percorso alcuni sentieri ed essersene allontanata, prendendo una traccia in discesa, poi diventata cieca. Per portarla via da lì è stato necessario aprire un varco e anche qui la collaborazione dei compaesani è stata un tutt'uno con quella dei soccorritori, tra rovi e altri cespugli e terreno fangoso, per far passare agevolmente la barella, che in alcuni tratti, in traverso e in discesa, è stata assicurata con la corda. Continuano invece senza sosta le ricerche del cardiologo disperso a Cortina D'Ampezzo, trovata nelle ultime ore, una bandana che per i familiari apparterebbe all'uomo. A Cortina D'Ampezzo continuano le ricerche di Leopoldo Celegon, il cardiologo di Castelfranco Veneto, 72 anni, scomparso dalla giornata di domenica. Le squadre dei soccorritori lungo il Coste Ana hanno rinvenuto in acqua una bandana, 50 metri più in basso rispetto a dove è stato ritrovato lo zaino. L'oggetto apparterebbe all'uomo, scomparso da una zona attorno a Malga Pezziede Parù, dove si trovava in cerca di funghi. La portata del torrente si sta lentamente abbassando e gli operatori hanno nuovamente costeggiato il corso d'acqua su entrambe le sponde, sorvolando il tutto dall'alto grazie ai droni. Ancora però senza esito positivo. A Monte della Diga Dayal e a Valle, all'altezza di campo, sono state poste due reti di contenimento, utili nell'eventualità a individuare e fermare quanto di rilevanza apportato dalla corrente. I sommozzatori dei vigili del fuoco invece sono stati impegnati per ore a sondare il bacino senza rinvenire al momento alcun riscontro degno di nota. Urtati da una macchina cadono a terra a paura nel pomeriggio. Nel primo pomeriggio di oggi a San Vito a tagliamento per un bimbo di due anni e mezzo che era in bicicletta con la nonna, all'improvviso per cause che sono tuttora al vaglio dei carabinieri della stazione di Cordenon, su una macchina alla cui guida c'era una donna, ha urtato la bici tra via Armentarezza e via Monsignor Corazza nelle vicinanze del supermercato Conad. Alla scena hanno assistito diverse persone, tra cui residenti e persone che in quel momento si stavano dirigendo al supermercato per fare la spesa. Il pensiero è andato immediatamente al bambino, il piccolo era seduto sul seggiolino e a causa dell'urto è caduto. Anche la nonna è finita a terra e prontamente si è alzata per sincerarsi delle condizioni del nipotino. Si sono vissuti attimi di paura, il bimbo infatti non dava inizialmente segni di vita, tant'è che vista la teneretta e la dinamica qualcuno ha temuto il peggio. Alcuni passanti si sono attivati per chiamare i soccorsi, sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 e vista anche la dinamica e le condizioni del bimbo è stato fatto decollare e poi atterrare l'elicottero del 118. Il personale medico ed infermieristico si sono presi immediatamente cura del bimbo che nel frattempo si era ripreso e aveva cominciato a piangere. È stato poi portato all'ospedale di San Vito all'attagliamento, sottoposto agli accertamenti e tuttora tenuto in osservazione. Salvato un operaio di 25 anni caduto per quasi 6 metri in Val Raccolana a seguito di un infortunio sul lavoro. Le squadre di terra delle stazioni di Moggio Udinese e Cave del Predil hanno collaborato a supporto dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e dell'Eli Soccorso Regionale al recupero di un operaio 25enne della provincia di Verona vittima di un infortunio sul lavoro in Val Raccolana. Il giovane è precipitato dal bordo strada nei pressi dell'ultima galleria che conduce a Sella Nevea, cadendo dopo circa 6 metri di volo in un sottostante canale. La posizione in cui si trovava era proprio sotto i cavi dell'alta tensione ed è stato quindi necessario prima calare l'equipe tecnico-sanitaria dell'Eli Soccorso in un altro punto e poi, una volta sbarcati, approntare delle calate dal bordo strada fino al canale sottostante con le corde per non toccare i cavi. Il giovane è stato stabilizzato e imbarellato e dal punto in cui si trovava si è resa necessaria un'altra calata con la corda di un centinaio di metri per raggiungere una posizione sicura da dove poterlo prelevare con il verricello con una verricellata di un'ottantina di metri e imbarcare. Il ferito è stato portato all'ospedale di Udine. Sul posto i carabinieri di chiusaforte. Domani la sesta puntata torna insieme Cisle ormai è programma che ci accompagna da diversi mesi e che sta portando fortuna entrambi alla Cisle da una parte e all'emittente televisiva nostra dall'altra. Salute e ringrazio l'amico Loris Pasut che rappresenta di fatto la FNP Cisle del Friuli Occidentale. Ben ritrovato. Grazie direttore. Di che cosa andremo a parlare domani? Buonasera ai telespettatori e ci fa piacere che le dica che è reciproco il vantaggio di questa nostra trasmissione. Domani sera sarà con noi nella sesta puntata della nostra rubrica insieme Cisle la responsabile, la segretaria territoriale della categoria della scuola Antonella Piccolo. Quindi il tema di domani sera sarà la scuola e tutto ciò che in qualche maniera riguarda questo importantissimo settore sociale e tutto ciò che riguarda i problemi che questo settore sociale sta vivendo anche a causa del Covid delle difficoltà organizzative eccetera. Antonella avrà modo di spiegare di parlare delle difficoltà quali sono state le iniziative del sindacato in questo periodo parlerà del personale che in questo settore lavora insegnanti personale ATA e poi parlerà anche del famoso mondo del precariato dei famosi insegnanti che hanno già trascorso una vita da precari. Ecco, è un excursus di questo argomento dove appunto verrà trattato verrà trattato da Antonella Piccolo e verrà messo in rilievo come dire l'importanza di questo settore della scuola al quale bisogna assolutamente dedicare la massima attenzione. Quindi domani sera dopo il TG alle ore 21 sesta puntata di Insieme CISL. Direttore, visto che abbiamo qualche secondo colgo l'occasione per dire che l'organizzazione che qui rappresento cioè i pensionati della CISL di Pordenone come vede aprono questa trasmissione a tutte le categorie per dare luce, per dare lustro alla realtà CISL di Pordenone e in questo periodo abbiamo messo in funzione un sistema di agenda la chiamiamo agenda elettronica dove stiamo raccogliendo le segnalazioni coinvolgiamo le persone che si rivolgono a noi e pensi che riusciamo ad avere circa 3.000 collegamenti al mese cioè 3.000 persone ogni mese si rivolgono a noi per chiedere informazioni per soluzione dei problemi e in qualche maniera riusciamo a rispondere a tutta questa gente lancio anche come dire un invito a coloro i quali si apprestano ad andare in pensione o ci sono quasi insomma sono già andati se avessero per caso del tempo a disposizione qualche ora alla settimana sappiano che sono i benvenuti e avranno modo in qualche maniera di prendere parte a questo grande progetto della Cisla allora domani sera ore 21 sesta puntata della nostra rubrica insieme Cisla vi ringrazio ringrazio anche lei direttore di questa opportunità se posso spezzare una lancia nei confronti della FNPC io più volte mi sono recato visto come lavorano nella sede ovviamente di via San Valentino è una grande famiglia allargato ognuno ha le proprie mansioni ma quando bisogna collaborare l'unione fa la forza a me è sempre piaciuto il lavoro e il gioco di squadra ecco perché effettivamente l'invito lo rivolgo anch'io chi sta per andare in pensione o già in pensione si butti nel mondo dell'associazionismo in questo caso appunto partecipi alla grande famiglia della FNPC perché davvero vale la pena esperienze nuove si fa del bene e soprattutto questo soprattutto questo si fa del bene ecco questo ci intendevo che lei lo dicesse grazie ci vediamo domani sera grazie allora all'amico Loris Pasut pensate si è presentato in questura a Pordenone come richiedente asilo ma gli accertamenti hanno rivelato che era già gravato da una condanna per violenza sessuale nei confronti di una minore è stato arrestato un trentenne pakistano richiedente asilo è quindi emerso che il pakistano era gravato da una condanna definitiva per violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 14 anni il reato è stato commesso il 14 aprile 2014 in provincia di Ancona quando a bordo di un autobus di linea il giovane che si trovava in evidente stato di alterazione aveva prima importunato l'autista del mezzo pubblico e poi aveva palpeggiato nelle parti intime una ragazzina di 14 anni il conducente aveva quindi richiesto l'intervento delle forze dell'ordine che avevano subito arrestato il molestatore secondo la sentenza divenuta definitiva nel novembre 2015 il giovane avrebbe dovuto trascorrere un anno e nove mesi in carcere dopo alcuni mesi è stato rimesso in libertà il cittadino pakistano ha quindi lasciato il territorio nazionale rendendosi irreperibile dalla ricostruzione dei suoi spostamenti svolta dal personale della questura è poi emerso che è stato sottoposto a dei controlli in germania tra il 2015 e il 2016 con l'episodio di ieri si è quindi conclusa la vicenda giudiziaria dell'uomo che è stato arrestato ed è stato associato al carcere di Treviso dove sconterà la condanna per la violenza sessuale bloccato mentre stava recuperando alcuni effetti personali è durata meno di 48 ore la fuga di Satnam Singh il 42enne di origine indiana è ritenuto responsabile del tentato omicidio commesso nella tarda serata di martedì in via Friuli a Puglia di Prata di Pordenone nei confronti del conazionale Asame Singh compagno della ex moglie questa mattina alle 10.30 al termine di una stringente attività investigativa i carabinieri del Norm di Sacile sono riusciti a braccarlo e ad immobilizzarlo Singh si trovava nelle vicinanze della sua abitazione di Porcia e stava tentando di recuperare vestiti denaro e documenti probabilmente era in procinto di scappare ma di fatto insomma gli è andata male perché è stato prelevato dai carabinieri di Sacile ed è stato interrogato nella mattinata di oggi dal PM Federico Facchini è stato poi sottoposto a fermo di indiziato di delitto e quindi accompagnato in carcere a Pordenone pensate però perché detta così dice vabbè per fortuna ma il bello viene dopo perché a questa spedizione punitiva che abbiamo raccontato ieri sera avevano partecipato altre due persone di una persona si sono perse le tracce probabilmente è già espatriata uno dei complici invece Naviot Singh è stato fermato dalla polizia di frontiera di Aosta al valico del Monte Bianco e di fatto dopo aver commesso il tentato omicidio se l'è data a gambe elevate ma come gli agenti hanno proceduto al controllo di un autobus per caso a lunga percorrenza della Flixbus la tratta era quella Roma Milano Parigi in uscita dal territorio nazionale quindi in uscita dall'Itale si sono insospettiti per un giovane che con dell'infra dito ai piedi senza bagaglio senza soldi con una tuta addosso presentava una ferita da taglio sul polso destro segno della collutazione avuta nei giorni scorsi i poliziotti hanno approfondito il controllo verificando come il giovane fosse in possesso di un biglietto per la tratta Milano-Parigi quindi lui era diretto praticamente a Parigi se non avessero fermato a quest'ora sarebbe nella capitale francese ha declinato le proprie generalità come un cittadino italiano però di fatto era privo di permesso di soggiorno sul territorio nazionale gli agenti del posto di polizia di frontiera di Aosta hanno quindi contattato l'ufficio immigrazione della questura di Pordenone dal momento che il giovane poi identificato in Naviot Singh risultava essere domiciliato a Porcia a suo carico risultava una richiesta di emersione presentata da Satnam Singh cioè Satnam Singh che aveva accoltellato materialmente il rivale in amore aveva detto guardate che all'episodio ha partecipato anche questa persona però io non riesco a contattarlo probabilmente se ne sarà andato via essendo coinvolto direttamente nel tentato omicidio il PM Facchin ha emesso anche per lui la misura del fermo di indiziato delitto in concorso è stato quindi anche lui ai noi condotto nel carcere di Brissogne in provincia di Aosta speriamo veramente che anche il terzo possa essere rintracciato Monsignore Angelo Santalossaride perché sono due cittadini di Porcia lui abitando lì ha sentito disonorano il mio paese eh sì ma disonorano veramente tutti anche perché in Italia certi comportamenti a casa nostra non si tengono i regolamenti di conti vanno a farli nei loro paesi ci lasciano almeno un po' puliti e visto che i nostri problemi già li abbiamo come si combatte per la paura del covid ben ritrovato Monsignore grazie buonasera allora fra poco entrerò nelle vostre case non vi preoccupate non suona il campanello perché entrerò cantando cantando non so perché da un po' di tempo non sento più cantare e siccome è l'ora che vi preparate alla cena o ari state già mangiando non avete quindi neanche la mascherina e almeno sì quando mangiate la mascherina non serve speriamo ma insomma è bene portarla sempre forse qualcuno anche quando va a letto la mascherina è indispensabile ma bisogna anche mantenere le distanze va bene che lì siete tutti consanguini non ho capito di qual grado di parentela ma insomma dico è la distanza bisogna mantenerla e poi e poi cosa faccio vi chiedo scusa vi racconto un paio di barzellette perché perché vorrei vedervi un po' sorridere vorrei vedere la vostra faccia un po' sorridere ma insomma è vero che si muore di tante malattie e si muore anche del coronavirus ma dobbiamo proprio ridurci così che viviamo come se fossimo già morti no un po' di allegria una barzelletta un sorriso vorrei anche darvi un abbraccio ma dopo che ho visto la partita di calcio ieri sera l'avrete vista anche voi soprattutto gli appassionati di calcio ho notato che ogni gol che l'Italia segnava ahimè alla Moldava che non aveva nessuna colpa e poi i giocatori si abbracciavano non avevano la mascherina non si può giocare con la mascherina ma si abbracciavano ma come dico non sono evitati gli assembramenti una volta due sei volte si sono abbracciati tutto quanto nessuno è intervenuto non si può abbracciarsi bisogna mantenere le distanze perché è questo che è importante non è una cosa allora ho detto vi racconto un paio di barzellette perché poi voi cenate tranquillamente magari finito telepordenone cambiate canale e lì sentirete parlare che sono 500 i morti 300 in sala reanimazione insomma che c'è il disastro raccontatevi una barzelletta fra di voi mentre mangiate mentre siete lì perché altrimenti vi rovinate anche la cena e quando ci si rovina la cena non si sta bene insomma un po' di gioia un po' di felicità quel poco che abbiamo a guardare il tramonto o l'alba a guardare la gente in faccia a guardare un bel bambino ma anche una bella donna è un momento di felicità dobbiamo accogliere questi momenti non dobbiamo vivere da morti ancora vivi viviamo un po' di gioia un po' di serenità un po' un po' di felicità si compra con quattro centesimi un po' di felicità l'augurio che non perdiate la gioia del vivere un po' di gioia e un po' di felicità e adesso mangiate tranquillamente che dice questo non ci ha tanto disturbato buona cena grazie davvero Monsignor Angelo Santa Rossa davvero sarei felice se le persone potessero ritrovare la felicità scusate il gioco di parole ma ho visto insomma dei volti abbastanza tristi anche oggi passeggiando per le vie del centro cercate insomma di vivere la vita di tutti i giorni ma con le precauzioni del caso nessuno vi vieta ovviamente di essere felici andare a bere il caffè la pizza o altro ma mantenete insomma le precauzioni che ci sono state giustamente imposte per evitare un secondo lockdown grazie Monsignore i migranti nascosti in un tir erano in quattro e fuggono al confine uno però si ferisce il servizio nel tardo pomeriggio della giornata di ieri la polizia di stato ha scoperto all'interno di un camion per il trasporto del legname quattro cittadini stranieri provenienti dalla Bosnia-Herzegovina il tir è entrato in Friuli-Venezia-Giulia attraverso il valico di Sant'Andrea-Gorizia la polizia nel fermare il mezzo durante una serie di controlli ha subito notato i quattro migranti nascosti all'interno il gruppo per evitare il fermo da parte delle forze dell'ordine ha tentato di fuggire a prendo un buco nel telone del camion nella parte superiore calandosi dal tetto del camion un migrante è caduto ferendosi a una gamba gli altri tre invece sono stati comunque fermati nell'immediato con la collaborazione della polizia stradale della Guardia di Finanza i sanitari sono dovuti intervenire per soccorrere il ragazzo ferito che è stato trasportato in ospedale posto in isolamento sono stati tutti avviati alla quarantena fiduciaria parliamo invece di attenzione che un'amministrazione deve avere nei confronti delle persone disabili andiamo a Cordenonsa allora saluto e ringrazio il suo sindaco Andrea Dellevedo e grazie sindaco per essere tornato con noi grazie a voi perché ci sono degli eventi importanti sabato un'inaugurazione un taglio del nastro importante e poi anche è da dire che ormai siamo prossimi anche alla realizzazione dell'ascensore che è stato proprio progettato e installato al centro culturale Aldo Moro proprio in incontro alle esigenze delle persone diversamente abili prego sì grazie sono iniziati i lavori per quel che riguarda la realizzazione appunto di un'ascensore nel nostro centro culturale per dare la possibilità anche ai disabili agli invalidi di poter accedere al nostro teatro in maniera semplice e facile quindi sono interventi che attendavamo da anni e finalmente stiamo portando a termine anche questo tipo di iniziativa tanto attesa da queste fasce di persone che hanno bisogno altra realtà è sabato appunto l'inaugurazione per quel che riguarda il parco per tutti parco che è stato sistemato per quel che riguarda gli accessi le vie che portano al nostro parco sono state realizzate con materiale che permette alle carrozzine quindi di scorrere facilmente i giochi abbiamo già montato anche in passato sono dei giochi inclusivi per poter agevolare anche i bambini che presentano delle manumazioni o dei disabili quindi sabato alle 11.30 cercheremo di fare così una piccola inaugurazione per quel che riguarda un lavoro che sia un po' allungato con i tempi per il problema anche delle difficoltà di svolgere i lavori in questi momenti e adesso finalmente le opere sono finite adesso settimana prossima verrà poi anche portata la lavorazione per quel che riguarda l'erba e le piante che sono state sistemate quindi per quest'anno ormai siamo inoltrata quindi il parco non potrà tanto essere sfruttato però in primavera avremo quindi un parco con tutti i crismi con tutte le accortezze del caso ecco le leggo un titolo del Corriere della Sera parlando di Covid ci sono i sindaci anche Sala il sindaco di Milano sta pensando a una stretta stasera forse l'ordine nei luoghi della Movida restringimenti insomma e quant'altro oggi i casi pensi sono stati in Italia 4458 il numero più alto da aprile allora io le faccio una domanda visto che lei ha vissuto in prima persona anche l'esperienza del Covid assieme ai suoi cittadini in prima linea siamo tornati ai tempi del lockdown diciamo che il presupposto e più o meno non siamo ancora alla chiusura ma i numeri sono quelli vedendo appunto i numeri i dati anche che arrivano alle amministrazioni è evidente che c'è purtroppo un ritorno di questa di questa situazione che avevamo vissuto marzo aprile e maggio in particolare di quest'anno purtroppo era anche prevista questa ondata di ritorno l'ondata di ritorno però adesso trova amministrazioni cittadini preparati ad affrontare questa realtà che quindi non essendo nuova sappiamo bene come affrontarla è preoccupante perché anch'io vedo delle situazioni particolarmente critiche dove noi cerchiamo anche purtroppo con la forza perché le nostre forze dell'ordine stanno patugliando anche i locali per cercare di disincentivare quel che riguarda gli assembramenti è evidente che tante volte ci si dimentica però dobbiamo renderci conto che l'attenzione deve essere massima noi vediamo anche dei locali dove purtroppo la gente tende a fare gruppo ad assembrarsi ad assembramenti quindi noi rinnoviamo l'invito a tutti quanti di garantire e di fare in modo che le forze dell'ordine non siano costrette poi ad agire come purtroppo è successo anche nei giorni scorsi dove abbiamo fatto delle sanzioni e dopo ci troviamo con gli esercenti che vengono anche dal sindaco a lamentarsi ma non è né colpa del sindaco né colpa delle forze dell'ordine se i verbali vengono fatti si vede che le condizioni c'erano purtroppo speriamo che serva da monito anche per gli altri per garantire la sicurezza di tutti perché sicuramente ci troviamo in un momento difficile e purtroppo i dati potrebbero far pensare che a novembre la situazione sia ancora peggiore sta in noi in tutti quanti a fare dei piccoli sacrifici per garantire un futuro sicuro a noi e i nostri figli grazie sindaco c'è nel prossimo appuntamento Andrea Dellevedo che guida il comune di Cordenon se poi ovviamente ci sentiremo anche per delle trasmissioni visto che ormai a grandi passi ci avviciniamo verso l'inizio della campagna elettorale prossimo anno ricordiamo che non soltanto si vota a Pordenone e a San Vito e a Tagliamento ma anche a Cordenon se sarà forse il comune più importante anzi senza dubbio dopo proprio il capoluogo Pordenone grazie ancora per essere stato in nostra compagnia grazie a voi tre fermi di indiziato di delito per furto stanotte è stata commessa una spaccata porcia ai danni della attività Sapori del Grano il servizio ci troviamo fuori dal panificio i Sapori del Grano in via Roveredo a Porcia dove questa notte è avvenuto un furto da parte di tre giovani di cui uno italiano e due stranieri andiamo a sentire il titolare si vede bene dalle immagini che abbiamo potuto vedere insieme anche alla polizia che è prontamente intervenuta sono due ragazzi hanno manomesso prima una telecamera esterna hanno cercato di scassinare una porta non riuscendo sono andati sul retro sono entrati dal Deor hanno aperto abbastanza facilmente anche se sono abbastanza bravi una porta vetrata ecco da lì sono entrati dentro e hanno cercato dappertutto evidentemente dei contanti cosa che non hanno trovato hanno provato rovistato dappertutto ma non trovando niente hanno solamente portato via delle materie prime che erano in frigorifero diciamo delle torte avete avuto danni a quanto ammonta più o meno se lo sa danni fortunatamente non ci sono stati pochi a parte un computer dietro che molto probabilmente pensavo fosse quello delle telecamere ma invece era solo un computer di uso interno i cassetti delle casse che sono stati diventi quindi da buttare e un po' di segni sulle porte di manumissioni e basta quindi non diciamo fortunatamente non grandi danni quindi è andata bene diciamo come è venuto lei a sapere che appunto è successo questo fatto? ho dei super vicini che i titolari dei muri del locale che abitano sopra hanno sentito dei rumori sono usciti e gli hanno potuti vedere anche da vicino questi ragazzi che tranquillamente se ne andavano senza correre con i dolci in mano con una bella mazza una bella mazza da un metro addirittura pronti a rompere il caso di bisogno e loro prontamente mi hanno chiamato telefonicamente io abitando in zona sono intervenuto subito e con me anche la polizia prontamente due volanti insomma i tre responsabili sono stati presi l'abbiamo saputo e lei comunque si sente preoccupato o come vive insomma adesso il post sono preoccupato sono preoccupato sì perché non è una bella esperienza quando ti entrano così facilmente dentro un fatto è il fatto che c'era anche l'antifurto che non andava una settimana circa che era che era in riparazione quindi quello da tenere in considerazione però una cosa che mi ha consolato l'intervento rapido delle forze dell'ordine che quasi sono arrivate prima di me quasi nonostante abitassi in zona e la preoccupazione che ho visto di questi ragazzi che prontamente con le telecamere mie e quant'altro si sono preoccupati è la bella notizia che mi avete dato voi che praticamente che hanno presi questi ragazzi adesso magari con l'aiuto delle telecamere e del video ecco quindi preoccupato sì però ben sperante nel senso che la giustizia funziona vediamo sì i ragazzi uno è italiano l'altro gli altri due sono stranieri hanno un'età compresa tra i 21 e i 28 anni sono stati rintracciati grazie all'ausilio anche del nucleo cinofili carabinieri di Torreglia che hanno intercettato e bloccato a bordo di una Renault Clio i tre individui che avevano insomma perpetrato il furto hanno rinvenuto proprio il maltolto asportato nella notte dal locale arnesi di scasso idonei proprio a forzare gli ingressi e i sistemi di sicurezza delle abitazioni quindi se mi avessero fermati probabilmente oggi saremmo qui a raccontarvi o domani a raccontarvi magari di una nottata di furti in altri negozi e in altre attività commerciali se non che appunto abitazioni occhio mi raccomando adesso che cambia l'orata qualche giorno antenne non alte ma altissime parliamo invece di evasione fiscale la lotta senza sosta ce ne parla però la dottoressa Francesca Vaccaro ben ritrovata la nostra dottoressa commercialista prego ben trovati infatti parliamo di questo argomento perché nella giornata di ieri il ministero dell'economia ha pubblicato una nota di aggiornamento al DEF che è il documento di economia e finanza con cui ci spiega quali sono i risultati dei loro intendimenti contro la lotta dell'evasione fiscale per l'anno 2018 che è l'ultimo anno intero esaminabile bene secondo le stime del ministero appunto nel 2018 rispetto all'economia reale e quindi quello che avrebbe dovuto entrare nelle casse dello Stato la differenza fra questo e quello che invece è entrato è circa di 86,2 miliardi di euro che sono sostanzialmente in buonissima parte IVA se a questo si aggiunge anche la mancanza dei versamenti contributivi si arriva a 107 miliardi per cui i risultati si misurano su questo che è il tax gap cosiddetto quindi la differenza fra quello teorico che dovrebbe entrare e quello che in realtà entra nelle casse dello Stato attraverso quest'analisi nel 2018 che è il primo anno in cui noi contribuenti abbiamo fatto amicizia almeno per lo meno chi ha le partite IVA con lo split payment che è quel meccanismo attraverso cui per farla molto semplice l'ente pubblico che deve dei soldi a un privato non paga l'imponibile l'IVA ma paga solo l'imponibile trattenendosi IVA e versandola allo Stato al suo posto in modo da saltare un passaggio e evitare che si perda in questo passaggio qualche versamento IVA e la fatturazione elettronica sempre del 2018 è il primo esperimento perché parte se ricordate dai carburanti da lì sono stati fatti ulteriori passi avanti quindi già nel 2018 questi due interventi hanno portato a recuperare oltre 5 miliardi di questo gettito che manca e attraverso le stime su quello che è stato fatto dopo quindi per chi appunto è nel mercato ormai sono diventate cose di uso comune la fatturazione elettronica e da ultimo i corrispettivi telematici ormai in sostanza generalizzati a tutte le categorie secondo le stime porteranno a più di 5 miliardi all'anno di recupero questo è il risultato oggettivamente per il 70% circa risultante dal recupero dell'IVA quindi secondo gli intendimenti e secondo il piano in questa direzione quella che è la strada intrapresa sembra portare appunto risultati perché questo è detto dai numeri al netto di quello che nel 2020 ovviamente deve essere ritarato come obiettivo perché c'è stata e c'è un'emergenza che impatterà anche su questi di progetti di bilanci e di risultati inevitabilmente detto questo la strategia si sposta sempre sulla fisco telematico quindi sull'integrare le banche dati di cui già ampiamente il sistema dispone per poter automatizzare e monitorare e tracciare tutti gli eventi che riguardano i contribuenti e quindi appunto limitare l'evasione stessa e sulla famosa compliance quindi l'adempimento spontaneo del contribuente a cui viene invitato attraverso delle comunicazioni diciamo così bonarie da parte dell'agenzia che trova delle incongruenze ecco con 2,1 milioni di lettere spedite nel 2018 sono rientrati 2,1 miliardi di euro quindi mille euro per lettera spedita questo ovviamente fa ben sperare e fa mantenere la barra dritta verso questa direzione per i prossimi anni più o meno questo è quello che dobbiamo aspettarci almeno per quello che riguarda il 2018 e i prossimi anni in conseguenza i risultati del 2018 preziosi come sempre i consigli ma soprattutto anche gli aggiornamenti la nostra dottoressa commercialista Francesca Vaccaro che tornerà la settimana prossima in nostra compagnia grazie ancora per essere stata con noi sorpreso mentre spaccia tra Concordia Sagittari e Porto Gruaro un nigeriano finisce in carcere andiamo a Udine un nigeriano di 23 anni senza fissa dimora è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia del commissariato di Porto Gruaro perché colto in flagranza di reato in attività di spaccio di sostanze stupefacenti Il ragazzo aveva appena ceduto una dose a un portogruarese e quando gli operatori sono entrati in azione lo hanno trovato in possesso di 10 grammi di eroina in parte già suddivisa in dosi pronte alla vendita marijuana e denaro in contante di piccolo taglio considerato il provento dell'attività illecita appena commessa I poliziotti hanno messo a segno il blizzi in un luogo posto al confine tra il comune di Concordia e quello di Porto Gruaro un'area già sottoposta a particolare vigilanza anche a seguito di alcune segnalazioni giunte dai residenti Il controllo ha interessato anche l'acquirente che con sé aveva la droga appena acquistata la sua posizione al vaglio della prefettura Il nigeriano invece è stato condotto in carcere a Udine a disposizione dell'autorità giudiziaria Ricordo della tragedia del Vaillant l'approfondimento con l'ospite della redazione del Veneto con Alessio Conforti Sì esatto con Giorgio Barro che è geologo ma che insomma ogni anno a ridosso dell'anniversario di questa immane tragedia torna con noi a fare il punto della situazione negli anni scorsi era anche protagonista insomma di alcuni appuntamenti culturali in giro per il Veneto ma anche per il Friuli Venezia Giulia ma non possiamo non ritornare a parlare del fatto se a distanza di tutti questi anni sia magari aumentata sicuramente la coscienza di quanto accaduto però ci vogliono anche degli interventi concreti Barro grazie per avermi chiamato che è sempre importante ricordare questa data storica questa data storica non penso sia solo un mio sentire è sempre un qualcosa scritto nella memoria di noi italiani perché la tragedia del Vaiont non è una cosa locale è un qualcosa che va oltre allora quest'anno non ho proposto il mio racconto sul Vaiont con il mio bambino per il problema del Covid per il problema e altre cose un po' mi dispiace spero che ci sia l'occasione di riproporlo ma non è questo il problema perché il problema è un qualcosa che ha toccato gli italiani penso sia la più grande tragedia tragedia che ci sia successa perché noi abbiamo avuto terremoti abbiamo avuto tante altre cose però quelle un po' passano ma questa era una tragedia scritta ed è questo proprio quello che forse ci ha messo dentro di noi una grande responsabilità e fatica responsabilità per il fatto che non devono più succedere responsabilità per capire perché è successo questo è un po' così la storia del Vaiont insomma 57esimo anniversario tornando anche alla domanda originaria concretamente perché ciò non avvenga secondo lei si sta facendo qualcosa ma guardi io la ringrazio sempre di invitarmi a parlare delle tragedie dell'Italia però sinceramente io resto sempre stupito perché chi mi ha seguito o mi ascolta o vi ascolta sa che non è la prima volta che dico che unicambio di stagione ci sono dei morti abbiamo avuto questo fine settimana lo scorso fine settimana maltempo che ha portato dei morti che si erano in Francia che dopo trasgrettati eccetera vuol dire che non abbiamo ancora questa coscienza la coscienza di avere un'attenzione purtroppo non è che si può averla cominciamo adesso ma i risultati li avremo fra 20 anni perché di fatto i danni urbanistici sono qualcosa che arriva prima diciamo che cominciamo a ragionare su queste cose che sarebbe già un buon punto di portenza non so se rendo l'idea io vorrei che al di là di tutto non ci succederanno più queste cose qua non parlassimo più ogni fine cambio di stagione di morti di esondazioni di colli che cadono ma come fa un ponte nuovo a cadere scusatemi se ci metto anche un po' come fa un ponte a cadere non è un ponte di 100 anni e questo è qualcosa che non va che non va e che dovremmo cambiare c'è anche bisogno di capire che non può ogni 4-5 anni un terremoto cadono le case bisogna costruire in maniera diversa ma lo dico per la salvaguardia dei nostri beni beni personali beni dell'azienda beni del lavoro è chiaro che dovremmo ragionare in maniera diversa invito l'ultima cosa prendo ancora un pelo di tempo so che sono un po' lungo però su queste cose un po' mi infermono perché sono cose che sento la salvaguardia della nostra vita la salvaguardia dei nostri beni nella storia del Vaillant ci sono delle colpe invito veramente e lo dico e tu lo sai ti do del tu il mio racconto su Vaillant è stato per evidenziare le responsabilità ma anche i danni personali che hanno avuto le persone è una cosa molto vissuta dal punto di vista personale e invito le amministrazioni anche a invitarmi a raccontarlo onoramenti non c'è nessun costo è una cosa che faccio gratis perché è un dovere morale che sento io personalmente scusate la lunghezza grazie no 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 ma ci teniamo l'ho detto in apertura insomma perché su questo se c'è maggior coscienza c'è anche poi in futuro maggiore prevenzione quella che la si auspica a tutti grazie esatto è questo l'obiettivo grazie a te linea Bordenone si parlava prima dell'emergenza covid poi magari parleremo anche di mascherine sui utilizzi sentendo anche la riflessione di un consigliere comunale professore e ovviamente architetto però prima passeggiando per la città mi è capitato questa mattina di incontrare Silvano Stocca storico commerciante della piazza e mi ha manifestato le sue paure i suoi timori di fronte a questa nuova ondata di contagio e soprattutto la paura che ormai regna dentro diverse persone sentiamo nel servizio cosa ci dice è una situazione gravissima perché questo stato di terrorismo che si è creato nelle persone fa sì che ci sia sempre meno movimento in città e quindi di conseguenza la gente spende sempre meno e non esce non fa l'aperitivo non fa il caffè e tutto molto da quando si è incominciato a parlare di possibile nuovo blocco di messa messa a tutti quanti le mascherine in qualsiasi momento in qualsiasi posto non so probabilmente a livello psicologico è scattata una molla che ha fatto sì che la gente si stia si stia preoccupando come all'inizio prima di andare nel lockdown che erano cominciavano tutti ad avere paura di questa di questa bestia nera che ci sta accompagnando da tanti mesi però anche ieri i contagi erano 3.031 i morti una situazione che sicuramente deve fare preoccupare giustamente voi rivendicate il diritto di lavorare ma ci sono anche delle situazioni che però devono essere tenute sotto controllo come quelle sanitarie cosa ne pensa? Sicuramente a livello sanitario sicuramente l'esperienza che hanno fatto nei mesi tragici del lockdown vi ha preparato i medici ad affrontare la cosa in maniera diversa il discorso sanitario va in primis però la mia paura è che le persone forse l'italiano medio è facilmente come dire è facilmente influenzabile influenzabile ma in questo caso in senso negativo e quindi la paura del contagio la paura dell'incerto di star male di ammalarsi fa sì che ci sia una contrazione su tutto però è una contrazione che ormai sta diventando una pandemia anche la contrazione quindi che futuro che futuro vede anche per il vostro settore se devo essere proprio parlare appartamente non vedo futuro cioè dovremmo vivere alla giornata vivere alla giornata sperando di riuscire a salvare il salvabile ormai c'è poco da salvare qua perché la società è strutturata per determinati consumi è una questione di domanda offerta se non c'è la domanda automaticamente l'offerta viene meno proprio per una questione di costi di puri costi questi sono i timori dunque dei commercianti oggi abbiamo sentito Silvano Stocca domani sentiremmo altri protagonisti altri esercenti che vivono a stretto contatto con le persone perché no anche magari sentire cosa ne pensano i cittadini della nostra città sarà nostro dovere poi proporvi l'esservizio saluto e ringrazio l'architetto Fabrizio Veniere componente del direttivo regionale del partito democratico in frulli Venezia Giulia grazie per essere in nostra compagnia ha sentito il commerciante dice è una situazione tragica la gente ha paura giustamente io non nego il fatto che c'è ci sia il covid-19 d'altra parte prodateci anche la possibilità di lavorare in 15 giorni il calo è stato sicuramente drastico degli affari almeno sentendo la categoria dei ristoratori il problema è sicuramente vero reale il tema è che se noi cerchiamo di fare proprio alcuni comportamenti soprattutto nei locali pubblici so sicuramente verranno ridotte diciamo la fruizione di questi locali da parte dei clienti è vero ha ragione intervistato è vero è indubbio è naturale sarà un periodo questo inverno io ritengo non io ritengo sulla base di quello che si sente fino alla primavera dove francamente dovremmo far fronte anche in maniera molto decisa a questa nuova situazione situazione che tra parentesi era stata anche in qualche modo preventivata si diceva all'inizio dell'autunno ci potrebbe essere diciamo un riaccutizzarsi di questa però vede c'è un problema io vedo a scuola vedo a scuola i ragazzi che in maniera molto almeno le medie stanno seguendo le indicazioni personalmente all'inizio pensavo che ci fosse una maggior difficoltà così nei riguardi di alcuni comportamenti la mascherina il lavarsi stare distanziati ragazzi che hanno anche loro voglia di stare vicini parlare dopodiché se io vado in qualche locale e mi ritrovo che anche se c'è uno spazio esterno mi ritrovo dentro accalcati magari come mi è successo a sentire a cantare senza mascherina senza niente capite che io capisco l'esercente che se va lì e gli dice scuso uno due tre volte si ritrova il cliente che magari dice ma tu ce l'hai su con noi è vero questo è un dato vero però io credo che in questa fase noi dovremmo essere molto severi molto ligi perché sennò rischiamo veramente di starsene a casa allora ecco starsene a casa perché questo è il rischio chiudersi e quindi l'invito è ovvio dopo di che qualcuno dice ma si limita la mia libertà sì ma la libertà è anche quella una volta si andava al cinema e si fumava poi gli si è detto non si fumano nel cinema è una limitazione di libertà però aveva un senso e tutti l'hanno dopodiché in macchina a un certo punto c'è stato detto bisogna metterci le cinture anche quella è una limitazione per non parlare della moto l'idea di andare in moto con i capelli al vento dopo ti si dice mettiti il casco anche quello è un'imitazione di libertà ci sono tante cose allora il tema di portarsi una mascherina è vero io so 5 ore la mattina stai con la mascherina quando eschi da scuola tiri via ti senti è vero è un dubbio dopodiché te ne stai un po' tranquillo è ovvio che da noi è più semplice in città è più difficile perché se in città prendi l'autobus prendi il treno quello è un vero problema lì sì veramente è una situazione difficile da noi nella nostra dimensione così poco urbanizzata la cosa è più semplice quindi l'invito penso che tutti lo abbiano introiettato e penso e spero che questo venga realizzato diversamente sarà un percorso molto poco simpatico per i prossimi mesi questo è quello che penso tante persone tra parentesi ho sentito ieri una trasmissione che il 70% degli italiani 7 su 10 ritiene che in questa fase ci si deve comportare in un certo modo mi fa specie dicevo prima quell'iniziativa di sabato di coloro a Roma di coloro che in cui ci sono personaggi di diversa estrazione anche tra virgolette politica che vanno a manifestare dicendo le mascherine non servono a nulla negazionisti dai sì ecco il problema è che se fosse un problema riferito a loro solamente a loro uno può fare quello che vuole uno può anche buttarsi giù dal ponte però il problema è che se io mi butto giù dal ponte e porto dietro altre 5 persone che non vogliono buttarsi giù dal ponte questo mi dà un po' fastidio tutto quanto qui un po' di buonsenso credo che ci dovrebbe essere ci vorrebbe di più architetto grazie c'è nei prossimi appuntamenti Fabrizio Venier componente del direttivo regionale del partito democratico in fluo di Venezia Giulia su disposizione del sindaco Alessandro Ciriani gli impianti di riscaldamento possono essere accesi anticipatamente rispetto alla normativa in vigore quindi dall'8 al 14 ottobre per un massimo di 7 ore giornaliere in due sezioni tra le 5 e le 23 il comune di Pordenone è inserito nella zona climatica e dove è consentito l'accensione degli impianti di riscaldamento dal 15 ottobre al 15 aprile tuttavia la decisione è stata assunta poiché le condizioni climatiche previste dal servizio meteorologico prevedono un abbassamento delle temperature minime a partire già da oggi fino a tutta la prossima settimana quindi avete sentito che di fatto da domani si potrà accendere rispetto ovviamente degli orari stabiliti i riscaldamenti nelle proprie abitazioni schizzano intanto i contagi da covid 19 in Veneto solo nella notte 355 positivi e 4 morti in Veneto i contagi da covid 19 sono tornati a salire solo nella notte i nuovi casi sono stati 355 con 4 decessi il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza è salito a 2206 lo rileva il bollettino di azienda zero nel veneziano i nuovi positivi registrati dalle 17 di ieri alle 8 di questa mattina sono 66 il maggior numero di casi si registra comunque a treviso con 87 positività guardando ai ricoveri sono attualmente 326 pazienti in cura negli ospedali veneti dei quali 232 positivi 19 gravi e 94 negativizzati 10 in terapia intensiva nella città metropolitana di venezia ci sono 24 persone ricoverate ad olo 3 gravi 22 al san giovanni e paolo di venezia nessuno in terapia intensiva 17 all'angelo di mestre di cui 2 gravi al covid hospital di jesolo che torna a essere un punto di riferimento per il territorio del veneto orientale una decina i pazienti ricoverati a sandona di piave all'istituto scarpa 5 studenti di cui 2 con lievi sintomi e un insegnante sono risultati positivi al virus così l'intera classe è stata messa in quarantena parliamo di politica luda e cruda perché partono i tesseramenti i banchetti nelle piazze ricerca anche dei componenti delle varie liste che correranno per conquistare il comune di Pordenone guardiamo la prospettiva dal centro-sinistra assoluto e ringrazio il dottor Marco Cavallaro segretario cittadino del partito democratico nonché anche consigliere comunale ben ritrovato buonasera grazie che novità ci sono perché ormai già alcune liste io parlo del centro-destra hanno già chiuso il cerchio e noi invece vi state approntando insomma a cercare le soluzioni ideali per contrastare la corazzata a Ciriani sì esatto direttore mancano sette mesi più o meno alle prossime elezioni elezioni importantissime per Pordenone come capoluogo giustamente prima era ospita anche il sindaco di Cordenonso quindi si andrà a elezioni anche a Cordenonso e a San Vito però come segretario di circolo ovviamente mi concentro sul capoluogo di Pordenone partiamo partiamo con così anche l'occasione di invitare i cittadini ad alcune iniziative la prima sabato sabato mattina saremo presenti in in piazzetta Cavour con il classico banchetto un banchetto dove alcuni volontari incontreranno la cittadinanza quindi sarà un'occasione di scambio di ascolto di discussione su temi sia nazionali il bonus 110 il superamento ad esempio dei decreti in sicurezza di pochi giorni fa e ovviamente anche una serie di occasioni per parlare della città che vogliamo dal 2021 in poi e poi giustamente ricordava i tesseramenti è partito la campagna di tesseramento al Partito Democratico quindi ogni giovedì la sede di Pordenone è aperta sia per i rinnovi diciamo dove si trova la nostra sede si trova in via Don Luigi Sturzo 2 si vede facilmente vicino piazza Piazza Ducca d'Aosta si vede perché nelle insegne proprio c'è il nostro simbolo quindi noi giovedì dalle 17.30 al 19 circa saremo lì e saremo disponibili al tesseramento tesseramento che ovviamente è un'apertura della base sociale chiamiamola così comunque dei tesserati al partito ma è ovviamente anche un'occasione di raccolta di disponibilità di altre di persone di cittadini che vogliono affacciarsi alla vita politica e alla sfida amministrativa del 2021 ecco che lei giustamente diceva prima mancano sette mesi e non sono tanti non sono pochi non sono tanti sono veramente pochi anche perché dovete costruire una squadra io non so se poi entrerà il movimento 5 stelle non entrerà farete insomma più liste o una lista unica quello poi si vedrà nei prossimi giorni e se rimane il candidato Gianni Zanolin ma di fatto insomma c'è un lavoro e un team da creare ecco che prospettive che situazioni vede da qui ai prossimi mesi cioè quale sarà il rurino di marcia c'è un'amalgama come si dice di solito no? io penso questo per costruire l'amalgama bisogna anche costruire un programma delle idee su questo stiamo lavorando abbiamo lavorato come partito democratico nel periodo proprio di lockdown abbiamo lavorato molto in remoto adesso ricominciamo e ricominciamo con dei gruppi di lavoro anche questi sono aperti alla cittadinanza per costruire proprio alcune tracce di idea di proposta poi da fare alla cittadinanza nelle elezioni su quella base lì andremo a discutere con la coalizione è un dialogo che come ho detto l'altra volta è già aperto e sulla base di questo si costruisce proprio quella amalgama io poi penso dal punto di vista politico che come a livello nazionale anche a livello locale l'elettore debba poter riconoscere il giorno dell'elezione proprio uno schieramento chiaro proprio uno schieramento politico chiaro quindi io voglio votare PD so chi è il PD so l'identità del PD e su questo stiamo lavorando se si ricorda dal 2018 si parlava della traversata nel deserto ci stiamo lavorando penso che anche gli ultimi risultati politici nazionali abbiano dato risultato che stiamo veramente dando un'identità ripeto ripeto prima il bonus 110 è un segnale verso una concezione di rinnovamento ambientale di attenzione una politica green green esatto e anche dal punto di vista dei diritti l'aver superato quei due decreti in sicurezza abbiamo ancora pochissimi secondi che cosa non mancherà sicuramente nel vostro programma di cui la città di Pordenone avrebbe bisogno ma che questa amministrazione non è ancora stata in grado di intervenire io ripeto due cose la prima l'attenzione alla partecipazione partecipazione verso tutti i cittadini questi anni abbiamo visto un sindaco che ha fatto ha diviso nettamente la città chi ci sta con me e chi non ci sta con me si era proposto come sindaco di tutti in realtà poi si è dimostrato sindaco di una parte anche il civismo è un civismo di facciata noi invece pensiamo che la cittadinanza debba partecipare tutta alla vita cittadina e la seconda cosa mi permetto di utilizzare una frase secondo me interessante di Renzo Piano il rammendo della città su questo ci sono tantissimi soldi ed è un bel colpo dell'Unione Europea con il recovery fund su quella partita lì un ragionamento sul rammendo della città ma non solo dal punto di vista urbanistico ma anche dal punto di vista delle persone quindi sociale è necessario ci vedremo la settimana prossima grazie a Marco Cavallaro segretario cittadino del partito democratico grazie ancora per essere stato con noi grazie a voi e intanto quest'oggi c'è stata una conferenza stampa a Trieste sui test rapidi per covid-19 nelle scuole hanno partecipato il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Fedriga e il suo vice Riccardo Riccardi abbiamo deciso di dedicare questa prima fornitura che ci è giunta di 5.000 test proprio per il sistema scolastico questo per cercare di rendere meno problematico possibile per le famiglie per i ragazzi per tutto il personale della scuola e l'epoca covid e quindi cercare di velocizzare il più possibile le risposte dall'altro lato anche per non sovraccaricare un sistema nel quale un test che si può fare in locco e che dà risultato in 20 minuti è ben diverso rispetto a un'analisi di laboratorio che ovviamente comporta maggiori criticità è ovvio che nel caso venisse arrivato un positivo e quel positivo dovrà fare anche il test tradizionale cioè il tampone tradizionale riusciremo a accorciare drasticamente i tempi quindi evitare il più possibile gli isolamenti evitare disagi alle famiglie perché ci sono famiglie con i genitori che lavorano e rischiano ovviamente in una situazione con le linee guida date dal governo di andare verso il caos così riusciremo a velocizzare stiamo predisponendo oltretutto un'ulteriore a ulteriori linee guida anche per agevolare tutta la parte dei pediatri che oggi devono fare certificati medici o mandare a fare tamponi anche per sintomi che non sono riconducibili al covid e infine riusciamo però anche a tenere meglio tutta la parte del sistema sanitario che con ovviamente i tamponi tradizionali ha una fortissima pressione e ha un limite anche oggettivo nei numeri con questo nuovo sistema sono convinto che riusciremo a fare più tamponi a fare in meno tempo e a creare meno disagi è un test importante perché stravolge il modello organizzativo perché consente di avere una risposta in tempi molto rapidi cioè invece di aspettare le ore aspettiamo alcuni minuti quindi questo ci consente un alleggerimento del carico delle attività a partire dalla quarantena precauzionale quindi è estremamente importante abbiamo deciso di testarlo nelle scuole e quindi come abbiamo visto oggi i 5.000 test che abbiamo a disposizione saranno destinati al sistema scolastico quindi agli insegnanti ai bambini a tutto il personale del sistema siccome è stato validato adesso noi stiamo procedendo in parallelo con l'acquisizione insieme ad altre regioni e naturalmente confidiamo che la gestione commissariale come ci è stato anticipato ci fornisca una quota parte di questo nella procedura che il commissario Alcuri ha dichiarato di aver messo in campo lo stiamo insomma perfezionando e condividendo anche con i pediatri di libera scelta perché diventa importante anche il loro parere su questo su questo percorso che sostanzialmente dovrebbe evitare il peso di fare dei tamponi dove in particolare ai bambini dove a nostro parere diventa non solo un appesantimento ma soprattutto un disagio nei confronti dei bambini che sarebbero costretti a fare dei tamponi anche quando non serve e in particolare anche nelle famiglie che ovviamente sono preoccupate di questo stiamo ricevendo molte molte lettere di preoccupazione da parte dei genitori quindi cerchiamo di andare incontro a questo codificando le due le due attività un percorso covid che presenta condizioni di un certo tipo mentre altro un banale raffreddore non può essere considerato come tale a degli handicap chiede troppi permessi e viene licenziato il caso è stato seguito dall'avvocato Margherita Cusin nel Codacons del Priuli occidentale ben ritrovata prego avvocato ci racconti un po' questa vicenda grazie l'ero fatto è venuto a Brescia in particolare un lavoratore con grave handicap era stato licenziato per quale motivo? perché aveva usufruito dei permessi previsti dalle leggi 104 del 1992 per coloro che appunto sono portatori di handicap in particolare hanno diritto fra le altre cose ad avere tre giorni al mese di permessi ed era stato accusato di aver utilizzato questi permessi in prossimità delle vacanze inoltre di averli sfruttati per aver fatto dei lunghi viaggi in macchine quindi per essersi affaticato quindi non era giustificato l'utilizzo del permesso in quanto secondo il datore di lavoro il permesso doveva essere utilizzato o per effettuare delle cure mediche o delle visite connesse all'handicap e non per scopo ricreativo perché per questo esistono le ferie sia il tribunale che la corte di appello di Brescia invece dichiarano illegittimo questo licenziamento e tale decisione viene confermata il 25 settembre dalla Cassazione la quale pronuncia l'ordinanza 20.243 cosa stabilisce la Cassazione? Stabilisce che ex articolo 2.32 della Costituzione va tutelato il diritto alla salute e all'espressione della propria personalità nell'ambiente sociale del portatore di handicap e quindi anche l'utilizzo dei permessi è funzionale a ricostituire l'equilibrio psicofisico della persona con grave handicap con quale scopo? al fine di reinserirsi o meglio inserirsi all'interno della famiglia e all'interno della società e ciò per dare concretezza a un principio di solidarietà sociale a favore di persone meno avvantaggiate ciò però non deve portare a un comportamento illegittimo del lavoratore con handicap che utilizzi i permessi senza rispettare il principio di buona fede di trasparenza e quindi senza abusare dei propri diritti grazie grazie come sempre a Margherita Cusina del Codacons del Friuli Occidentale ci vedremo nei prossimi appuntamenti e chiudiamo questa prima parte andando in Veneto con Alessio Conforti a seguire le previsioni del tempo un breve break pubblicitario poi tutte le altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine e da quella del Veneto rimanete con noi Sì grazie dunque chiudiamo questa prima parte in attesa dell'arrivo dell'ospite con una notizia perché quello di oggi è stato un tragico davvero tragico pomeriggio nel bellunese a lozzo di Cadore perché è grave il bilancio di un incidente è accaduto proprio in centro nei pressi dell'ufficio postale del comune bellunese due persone sono state travolte mentre stavano attraversando la strada quando insomma è accaduto davvero il peggio le indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Cortina ad Ampezzo intervenuti sul posto per eseguire i rilievi di legge una delle due persone investite è deceduta all'istante l'altro pedone è stato soccorso invece dal suo M118 e trasportato in elicottero a Belluno le sue condizioni non sarebbero gravi davvero un incidente questo tragico dunque tra poco daremo anche un aggiornamento chiedo alla regia di anche ripristinare le immagini relativamente alla ricerca che è sempre in corso a Cortina ad Ampezzo del noto cardiologo disperso a Castelfranco prima di dare un aggiornamento relativo a quella notizia un altro aggiornamento relativo invece a quanto sta accadendo a Sandona di Piave dove si cerca una donna di 55 anni una donna che ha fatto perdere le proprie tracce dalla giornata di martedì in corso fino a pochi minuti fa nella città sulle rive del Piave le operazioni di ricerca del corpo siamo nella zona di via Prampolini una zona situata a nord della città gli operatori sono intervenuti sul posto per cercare dare atto a quelle che sono le ricerche della donna che vediamo in sovraimpressione Elena Gulino 55 anni uscita di casa martedì alle 11 avrebbe salutato la sorella sembra per andare a fare una passeggiata da sola ma non è più rientrata in casa come dicevo pochi minuti fa l'aggiornamento che la ricerca ha dato esito negativo sono stati impiegati per tutta la giornata anche i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno effettuato delle ricerche all'interno del fiume Piave senza dare purtroppo alcun riscontro positivo in questo senso poi anche un canale vicino proprio a via Prampolini anche qui senza alcun esito positivo davvero una giornata di ricerche di ricerche nei confronti appunto della della donna scomparsa ormai da giorni invece per quanto concerne l'altra ricerca a Cortina ad Ampezzo dove si cerca il cardiologo di 72 anni ormai disperso dalla giornata di domenica anche qui non ci sono notizie una giornata davvero intensa di ricerche sono stati scandagliati diversi canali da parte anche qui dei sommozzatori oltre al soccorso alpino purtroppo dell'uomo nonostante sia stato rinvenuto lo zaino nonostante sia stata rinvenuta anche la bandana del noto cardiologo ed anche appunto un il bastone utilizzato per la ricerca dei funghi anche qui di lui alcuna traccia cercheremo insomma di dare notizie anche nelle prossime edizioni del nostro telegiornale nel frattempo c'è raggiunto Francesco Fratto che è presidente di Commercio Portogruaro grazie per essere in nostra compagnia presidente eletto nuovo sindaco a Portogruaro insomma i commercianti che cosa chiedono chiaramente non nell'immediato ma da qui insomma ai prossimi anni beh sicuramente come con Commercio ci eravamo anche incontrati in precedenza prima di sapere l'esito delle elezioni con un po' tutte le parti in causa e a breve ci hanno chiesto anche in questo senso il sindaco il neosindaco Florio Favaro un incontro per cercare di fare il punto sulla situazione è un momento molto particolare sappiamo tutti in seguito anche a questa emergenza Covid noi fondamentalmente abbiamo cercato di sottolineare quelle che potevano essere tre situazioni da affrontare qui a Portoguaro innanzitutto sul turismo cercare di intercettare il più possibile il flusso di turisti sperando che se ne possano avere sempre di più anche in futuro nonostante questa situazione un po' particolare per esempio delle spiagge di Bionicables in primis ma anche quelle appena fuori del nostro comprensorio quindi una presenza importante anche nei tavoli della città metropolitana per riuscire ad intercettare e ottimizzare questi flussi a questi ovviamente sempre nella situazione del turismo per cercare di ottimizzare il tutto affiancare un programma di eventi in modo anche piuttosto calendarizzato in modo che tutta la città possa lavorare ad ottimizzare questi eventi non solo l'amministrazione non solo i commercianti o il commercio la ristorazione ma anche eventuali sponsor ovviamente il tempo necessario ci vuole per fare le cose fatte bene e infine sempre a cappello di tutte un po' le varie iniziative è quello di cercare per esempio nell'urbanistica di poter accogliere i visitatori i turisti presentando la nostra città sempre più come un piccolo gioiello il centro storico è ormai rinomato e conosciuto ma anche tutte le altre aree della città che accolgono i turisti o comunque i visitatori anche le frazioni anche le frazioni ovviamente perché poi dalle frazioni si possono instruire anche percorsi importanti abbiamo anche vicino Concordia e può diventare un polo attrattivo turistico sicuramente molto molto importante ecco presidente aumentano i contagi in tutta Italia aumentano i contagi anche in Veneto è sempre il caso di dirlo grazie anche all'alto numero di test eseguiti tutti i giorni sono a migliaia finora tra test rapidi e tamponi siamo a quasi 3 milioni però è innegabile che insomma ci sia un aumento ed anche un po' di preoccupazione tra gli stessi esercenti perché viene scongiurato un lockdown però si parla di chiusure che ancora ovviamente non sono state autorizzate ma era nell'area non è stato fatto obbligo di mascherine anche nei luoghi nei luoghi chiusi oltre a quelle che ci sono nei luoghi a parte insomma nella categoria che momento si sta vivendo sicuramente c'è preoccupazione devo dire che rispetto ad altri paesi europei tutto sommato qui in Italia abbiamo avuto un atteggiamento molto responsabile sia da parte del governo ma anche soprattutto sia dei cittadini e anche devo dire degli esercenti che hanno saputo fino in questo momento tenere un profilo piuttosto prudente in tutte le manifestazioni nel nuovo DPCM si affronta l'argomento al momento non sono previsti chiusure anticipate eventualmente varranno valutate cosa che mi pare giusta anche dal punto di vista sanitario eventuali situazioni locali e prese decisione in quel senso eventualmente andando a restringere quello che è il DPCM attuale è chiaro che la prudenza e l'attenzione insieme a un sistema di tracciamento che viene sempre più accentuato possono servire a rallentare quella che può essere una seconda andata in previsione anche delle situazioni di classico di classica emergenza che può arrivare anche insieme all'influenza quindi sappiamo che l'inverno sarà un inverno abbastanza lungo perché ci sarà la sovrapposizione di più situazioni patologiche è chiaro che il coronavirus questo me lo sento dire da sanitario è rispetto a marzo e aprile più conosciuto abbiamo più possibilità di cura la conosciamo meglio e quindi mi sento di essere moderatamente ottimista in questo senso ovviamente se tutti rimarranno prudenti si attueranno tutte le misure necessarie a fronteggiare una situazione particolare e soprattutto a rallentare la diffusione dei contagi grazie a Francesco Fratto grazie a voi per essere stato con noi Presidente di Commercio Portogularo chiudiamo questa prima parte linea subito al meteo e dopo l'informazione di Udine si torna qui nel Veneto vi aspettiamo tra pochissimo linea alla leggea buonasera buonasera a tutti dunque bella giornata anche oggi con il cielo che è rimasto quasi sempre sereno eccetto solo il passaggio di qualche leggera velatura in quota temperature fresche questa mattina a 7-8 gradi in pianura massime invece sui 21-22 domani sarà una giornata molto simile a quella di oggi con cielo che rimarrà probabilmente sereno o poco nuvoloso per il passaggio di qualche leggera velatura sulla costa venti molto deboli di brezza e durante la notte non è scuso che possa esserci qualche banco di nebbia o qualche foschia in qualche fondo valle o sulle zone di pianura più occidentali quindi la bassa polvenonese rimaniamo ancora protetti per qualche giorno c'è un promontore anticiclonico un anticiclone che interessa il Mediterraneo occidentale quindi con correnti da nord aria secca quindi il tempo rimane bello e stabile sulla nostra regione anche domani sabato le correnti cominciano a girare più da sud ovest cominciano ad essere un po' più umide in particolare nel pomeriggio nel pomeriggio sera quando ciò diventerà appunto più variabile sulla fascia prealpina sull'alta pianura sulle zone più orientali della nostra regione sulla costa sempre venti deboli di brezza temperature che rimarranno grossomodo lì tra gli 8 e i 22 gradi circa sabato sera si avvicina una saccatura atlantica con un fronte che ci interesserà nella giornata di domenica quindi già sabato sera è possibile che ci siano le prime deboli precipitazioni deboli piogge a partire dalla Carnia e quindi nelle zone più occidentali poi durante la notte tra sabato e domenica brutto tempo con piogge direi diffuse sulla regione forse anche temporalesche e quota neve che comincerà a scendere in montagna perché arrivare è un po' più fredda qui domenica mattina ancora cielo coperto con piogge direi diffuse neve in montagna al di sopra dei 1200 metri circa forse a quote un po' più basse sul Tarvisiano la novità è che nella notte domenica dovrebbe soffiare Bora Bora che potrebbe essere anche temporaneamente forte a Trieste sostenuta invece sul resto della costa Bora moderata invece in pianura ci aggiorneremo comunque nei prossimi giorni buona serata la giunta comunale di Sappada ha ricevuto nei giorni scorsi in municipio gli assessori regionali Pierpaolo Roberti e Sergio Emilio Bini per affrontare i temi di progettazione e materia di impiantistica di futuri investimenti e di sviluppo turistico della località montana che da un anno risulta il sesto polo sciistico della regione in videochiamata c'era anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga oltre al progetto di sviluppo degli impianti che nelle prossime settimane diventeranno di proprietà di promotorismo FVG si è parlato anche di importanti investimenti che alcuni privati intendono realizzare a Sappada soddisfatto dell'incontro il sindaco Manuel Piller-Offer che ha ringraziato il governatore e gli assessori regionali a nome anche della comunità per il costruttivo incontro Roberti in una sua dichiarazione sui social ha evidenziato come la vicinanza alle comunità sia una caratteristica dell'attuale giunta regionale a Gorizia sarà presto pronto il parcheggio per i pendolari in piazzale Saba lo annuncia il sindaco Rodolfo Ziberna non si può attendere oltre perché da anni i pendolari che ogni giorno prendono il treno per lavoro attendono un parcheggio dichiarano intervista e allora ho rotto gli indugi dopo essermi confrontato con la soprintendente che ringrazio per la disponibilità ho dato disposizione affinché dal progetto generale di riqualificazione dell'ex deposito dei tram venga stralciata una parte per realizzare intanto un parcheggio basico di una sessantina di posti senza accessori né interventi strutturali il risultato sarà simile anticipa Ziberna a quello di via Margotti contestualmente sarà messo in sicurezza l'edificio che ospitava il custode che non può essere abbattuto in quanto tutelato nei giorni scorsi è stata affidata la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori del parcheggio e se tutto andrà secondo i propositi dovrebbe essere pronto entro l'anno il servizio che verrà erogato agli automobilisti sarà gratuito è un intervento molto atteso a servizio in particolare ha spiegato Ziberna di chi lavora ogni giorno fuori città era doveroso pensare subito a loro un cordiale saluto dalla nostra redazione del Veneto dunque contagi in salita 355 casi solo nella notte nelle 7 province e 4 decessi 2 a Padova 2 a Venezia e 1 nel Trevigiano il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza è salito a 2206 lo rileva il bollettino di azienda zero nel veneziano i positivi registrati dalle 17 di ieri pomeriggio alle 8 di questa mattina sono 66 ma è la marca trevigiana il territorio che registra il più alto numero di positività 87 nel periodo poc'anzi citato la situazione negli ospedali guardando ai ricoveri sono attualmente 326 pazienti in cura nei nosocomi veneti dei quali 232 positivi 19 gravi e 94 negativizzati 10 le persone in terapia intensiva nella città metropolitana di Venezia ci sono 24 persone ricoverate ad Olo 3 gravi 22 al San Giovanni e Paolo di Venezia nessuno in terapia intensiva 17 all'Angelo di Mestre 2 gravi al Covid Hospital di Esolo tornato ad essere un punto di riferimento per il Veneto orientale sono una decina le persone ricoverate a San Dona di Piave allo Scarpa 5 studenti di cui 2 con lievi sintomi e un insegnante sono risultati positivi al virus la classe è stata messa in quarantena continuiamo a parlare di sanità avviato a Conegliano il trattamento endoscopico dei polipi del colon attraverso una resezione a tutto spessore avviata dunque una nuova tecnica nell'ospedale della marca trevigiana lo ha reso noto l'azienda sanitaria abbiamo eseguito il primo trattamento con la nuova tecnica ha spiegato il primario il dottor Alberto Tringali utilizzata solo in pochi centri italiani che consente di rimuovere polipi precedentemente trattati ma che presentano una recidiva molti pazienti ha detto potranno usufruire di questa nuova tecnica innovativa un 22enne di mestre finisce nei guai essendo uno dei punti di riferimento secondo gli inquirenti delle incursioni che in questi anni hanno caratterizzato il territorio veneziano sentiamo i particolari nel prossimo servizio obbligo di risiedere nel comune di Venezia senza possibilità alcuna di uscire se non autorizzato e dovendo rimanere in abitazione nelle ore serali e notturne oltre ad obblighi che ne limiteranno la libertà di movimento è quanto è stato disposto dal tribunale di Venezia nei confronti di un 22enne di mestre raggiunto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale proposta dal questore il provvedimento è stato notificato al giovane dalla divisione anticrimine della questura gli inquirenti ritengono che il 22enne sia un soggetto pericoloso per le molte manifestazioni violente delle quali si sarebbe reso responsabile nell'ambito di una delle baby gang che hanno imperversato a mestre negli ultimi anni il ragazzo unitamente ad altri componenti della banda sarebbe responsabile di oltre 20 episodi violenti la gran parte dei quali ai danni di altri gruppi di giovani o cittadini stranieri in particolare contro appartenenti alla comunità bengalese più recentemente il 22enne si era specializzato secondo la polizia nelle truffe online servendosi dei social contattava inserzionisti che ponevano in vendita oggetti di varia natura ai quali fingendosi interessato all'acquisto con semplici ma raffinate tecniche riusciva a far accreditare somme di denaro su carte poste pay a lui riconducibili da tempo il questore sta implementando questo tipo di misure di prevenzione risultate particolarmente efficaci se accompagnate a provvedimenti di natura giudiziaria incidente questa mattina in A4 nel tratto tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione di Venezia attorno alle 12.30 un'auto si è rovesciata sulla carreggiata tre le persone ferite tutte lievi soccorse dal SUEM 118 dell'ospedale di Porto Gruaro per circa 30 minuti l'allacciamento a 4 a 28 il nodo della città dell'Emene è rimasto chiuso in direzione Venezia a rilievi di legge eseguiti dalla polizia stradale situazione tornata alla normalità nel primo pomeriggio nel fine settimana una serie di cantieri in A4 facciamo il punto della situazione nel prossimo servizio Autovie Venete ha programmato nel fine settimana una serie di cantieri all'altezza del casello di Latisana che comporteranno alcune modifiche alla circolazione in particolare perché è diretto verso Venezia senza però determinare alcune interruzioni dei flussi veicolari sull'autostrada A4 alle lavorazioni già pianificate comprese nella costruzione della terza corsia e che si stanno avviando alla conclusione finitura delle barriere di sicurezza centrali si aggiungeranno anche gli interventi di risanamento della pavimentazione drenante in un tratto di circa un chilometro in prossimità delle rampe realizzata circa dieci anni fa in occasione della costruzione del nuovo casello di Latisana le fitte precipitazioni di questi giorni hanno infatto deteriorato il manto stradale e l'intervento non può essere rimandato le operazioni procederanno secondo fasi consecutive in modo da garantire sempre due corsie utilizzate per ciascuno dei sensi di marcia nella prima fase dall'una di venerdì 9 ottobre alle 4 di sabato 10 una delle corsie utilizzabili dai veicoli che procedono in direzione Venezia verrà deviata nell'altra carreggiata chi uscirà alla stazione di Latisana dovrà mantenere la corsia più a destra prestando attenzione alla segnaletica durante la seconda fase dalle ore 4 di sabato 10 alle ore 4 di domenica 11 le lavorazioni si concentreranno a ridosso delle rampe dello svincolo nell'occasione verrà chiuso il casello di Latisana in uscita per chi proviene dalla direttrice Udine Trieste e in entrata per chi è diretto a Venezia pertanto chi proviene dalla Tisana e dai comuni limitrofi ed è diretto a Venezia potrà entrare in A4 al casello di Portogruaro per chi proviene da Udine Trieste percorre l'A4 ed è diretto alla Tisana dovrà uscire al casello di San Giorgio di Nogaro nessun problema perché è diretto a Trieste dove saranno attive sabato e domenica le tre corsie sempre nel fine settimana il passante di Mestre sarà chiuso esclusivamente in direzione Milano dalle ore 21 di venerdì 9 alle ore 6 di lunedì 12 ottobre ed il traffico in A4 sarà deviato all'altezza di Quarto Daltino sulla careggiata a ovest della A57 taggenziale di Mestre attraverso l'uscita obbligatoria verso la stazione autostradale di Venezia Est regolare invece il traffico sul passante in direzione Trieste in questo caso si tratta di lavori di manutenzione che concessioni autostradali Benet e CAV effettua lungo il proprio tratto autostradale I carabinieri di San Dona di Piave hanno fatto luce su una rissa andata in scena lo scorso agosto il 23 di quel mese sembrava una banale zuffa tra stranieri e invece secondo le indagini dei militari dell'arma l'evento non era riconducibile a una rissa ma a una vera e propria rapina opera di sei uomini a danno di due giovani nigeriani entrambi 22 anni nel corso della quale sono stati privati dei loro telefoni cellulari e di alcune decine di euro i militari sono riusciti a identificare 5 dei 6 autori del reato di un'età compresa tra i 24 e i 45 anni alcuni di loro con precedenti penali e di polizia residenti a Musile di Piave e alcuni risultati senza fissa dimora tutti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria di Venezia per rapine in concorso il movente sembrerebbe derivare dalla volontà dei protagonisti di imporsi sui connazionali nella zona la risposta dell'arma dei carabinieri non è tardata ad arrivare con la loro identificazione per uno di questi un 32enne già gravato da vari precedenti è ritenuto essere in possesso di un profilo di pericolosità sociale concreto e attuale i carabinieri hanno proposto al questore rirrogazione della misura di prevenzione personale dell'avviso orale provvedimento previsto dal cosiddetto codice antimafia e a San Dona di Piave ci cerca una 55enne Elena Gulino residente del posto uscita di casa martedì mattina alle 11 ma di lei non vi è ancora alcuna traccia avrebbe salutato la sorella sembra per andare a fare una passeggiata da sola ma poi non è più tornata la città è in apprensione da ieri sera da quando un avviso è stato pubblicato sui social network con tanto di foto a postarlo il gruppo locale del controllo di vicinato da lì è partito il tam tam con numerose condivisioni da tutte le zone della Venezia orientale oggi le ricerche erano concentrate a San Dona dove i vigili del fuoco hanno messo in atto il consueto piano operativo per ricerca di persona scomparsa disposto dalla prefettura la zona è stata abbattuta dall'elicottero del comando provinciale dei pompieri i quali sono stati impegnati anche con sommozzatori nel fiume Piave al lavoro anche i carabinieri che coordinano le indagini Elena indossava maglia e fusò neri e un marsupio rosso chiunque l'abbia notata è pregato di allertare subito i militari al 112 stagione è terminata a Bibione tempo di bilanci e a tracciarlo è anche il consorzio Bibione Live in meno di due mesi la località ha recuperato la metà delle presente dello scorso anno sentiamo in meno di due mesi Bibione ha recuperato la metà delle presenze dello scorso anno un dato positivo soprattutto se accompagnato da un impegno concreto verso la stagione 2021 a dirlo Giuliana Basso presidente di Bibione Live il consorzio che riunisce gli operatori turistici della località Balneare Veneta bisogna credere nel turismo italiano dice Giuliana Basso in un appello al governo esattamente come abbiamo fatto noi operatori a inizio stagione quando abbiamo aperto la località senza l'ombra di un turista ma con la convinzione che bisognava trovare il modo per garantire la sicurezza e poi andare avanti a testa bassa per trovare il lato positivo di un crollo delle presenze ci vogliono mente lucida e nervi saldi che a Bibione non sono mancati sono molto orgogliosa degli operatori della località detto ancora Basso perché insieme abbiamo deciso che avremo capitalizzato il tempo a disposizione con formazione a distanza e un programma per la promozione del prossimo anno siamo già pronti per presentare la nuova Bibione attraverso un servizio fotografico e video che è stato girato durante l'estate scorsa i grandi assenti sono stati i turisti di lingua tedesca ma in compenso molti italiani hanno conosciuto gli ampi spazi vitali di Bibione abbiamo lavorato con grande efficacia sul mercato italiano conclude Giuliana Basso per noi decisamente nuovo facendo leva sull'ampiezza del nostro litorale sulle nostre ciclabili e sulla naturale conformazione di Bibione abbiamo dato il massimo sperando di aver lasciato un buon ricordo in chi non ci conosceva da non sottovalutare infine il fatto che agosto e settembre hanno comunque visto il riaffacciarsi del mercato tedesco e austriaco in particolare il primo ha riconosciuto che l'Italia aveva operato bene in termini di sicurezza Florio Favero nuovo sindaco di Portogruaro proclamato ufficialmente l'investitura diciamo così quella formale avverrà tuttavia al primo consiglio comunale che verrà convocato tra il 26 e il 28 ottobre ma nelle scorse ore è avvenuta la programmazione degli eletti municipio sia nell'ambito della corsa sindaco sia in quella legata al consiglio comunale c'è stato il consueto scambio di lettere tra segreteria comunale Eneo eletto sindaco per sancire il definitivo passaggio di consegne tra Maria Teresa senatore sindaco uscente e Florio Favero nell'ufficio a lui dedicato il nuovo sindaco ha tenuto un breve discorso è un onore iniziare per me ha detto dopo la convalida degli eletti il mio incarico di sindaco della città che svolgerò con impegno passione ed entusiasmo tenendo fede a quel prima l'ascorto che non è stato e non sarà solo uno slogan ma una promessa concreta grazie ha detto Favero ancora a tutti coloro che mi hanno dato fiducia e grazie anche a quanti non mi hanno votato ma che rispetto per rispetto delle scelte fatte garantirò e manterrò fede a ciò che ho detto sarò per davvero il sindaco di tutti un augurio infine ai componenti del consiglio comunale ha detto Favero affinché si possa lavorare ognuno nei rispettivi ambiti e ruoli per il bene dei nostri concittadini a proposito di consiglio comunale a Portogruaro colpo di scena in municipio nelle ultime fasi del conteggio per stabilire gli eletti nella minoranza il Partito Democratico perde un consigliere a vantaggio di città dell'Emeni al posto del Democratico Andrea Vindigni è promosso il candidato sindaco al primo turno di città dell'Emeni e sette frazioni in comune Graziano padovese che ha ottenuto il 4,44% Caorle in piazza Sant'Antonio sono stati abbattuti nei giorni scorsi i pini marittini che addornavano il nodo più importante per la viabilità di Ponente anche questi abbattimenti rientrano nell'opera di demolizione degli alberli per la riqualificazione del viale Santa Margherita i cui lavori della seconda parte del primo stralcio sono cominciati alla fine di settembre la viabilità in piazza Sant'Antonio è stata modificata per permettere agli operai di lavorare in completa sicurezza dopo che sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale i pini erano lì da decenni e hanno sempre accolto i turisti che venivano al mare sulla spiaggia ora l'operazione di abbattimento per rifare viale Santa Margherita è quasi completa nel 2021 ci saranno nuovi abbattimenti dei lavori per il terzo stralcio fino a Piazza Piave è stata chiusa una parte di viale Marconi per lavori di decespogliamento con deviazioni lungo via Giovanni da Pordenone mentre tra via Manzoni e via Pellico sono iniziati gli interventi di ammodernamento delle condutture sull'acquedotto a Jesolo sabato due importanti convegni medici lo annuncia l'azienda sanitaria i temi sono chirurgia vascolare e medicina interna all'hotel Almar si svolgerà il meeting dal titolo incontri di chirurgia vascolare organizzato dall'omonima unità operativa dell'Ulss 4 al centro congressi del Cursal in piazza Brescia sempre sabato si trarà il convegno dal titolo argomenti di medicina interna 2020 organizzato dalle tre unità di medicina dell'azienda sanitaria in un momento storico come questo in cui sembra un'anime l'esigenza di una maggiore sensibilità nel rispetto del pianeta nella cura del creato la tragedia del Vaillant rimane un monito affinché l'indispensabile sfruttamento della natura sia sempre equilibrato in condizioni di sostenibilità per il territorio e di sicurezza per la comunità chi ancora non lo capisce visiti il cimitero di Fortogna queste le parole del governatore del Veneto Luca Zaia nel 57esimo anniversario della tragedia del Vaillant che ricorre domani il 9 di ottobre un evento che avvenne nel 1963 e della drammatica cancellazione del vecchio paese di Longarone nel Bellunese travolto da un'enorme onda di fango mossa dalla frana che è staccatasi dal monte Toc precipitata nell'invaso della grande diga ancora un anniversario ha detto Zaia che ci impone di ricordare come quasi 2000 persone trovarono una morte orribile al dramma del lutto si aggiunse la tragedia dei sopravvissuti che persero affetti e tutti i beni in pochi minuti una ferita mai rimarginata nella memoria un dolore mai venuto meno cui ha contribuito anche la mancanza di risposte adeguate a cominciare da quella definitiva alla richiesta di giustizia grazie per averci seguito con questo è davvero tutto vi lascio le nostre previsioni del tempo a seguire non perdetevi il fatto a cura di Luigi Gandhi questa sera il presidente della Bibione Spiaggia Gianfranco Prataviera e il direttore Flavio Maurutto fanno un bilancio sull'andamento della stagione estiva a Bibione interviene anche il sindaco Pasqualino Codognotto grazie per averci seguito ci rivede come sempre puntuali domani alle 19 con il telegiornale del nord-est arrivederci venerdì precipitazioni assenti cielo poco parzialmente nuvoloso sulla pianura e parzialmente nuvoloso o nuvoloso sui monti temperature in aumento eccetto diminuzioni dei valori diurni nelle valli grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.